Ciao, in questo nuovo tutorial vedremo come scrivere la parola ciao sulla propria bancheca di Facebook. Dopo aver affettuato il vostro accesso all'account Facebook, premete su questo tasto profilo. In questo caso vi apparirà la vostra pagina iniziale e in questo riquadro digitate in ordine progressivo per come le sto indicando la seguente combinazione di tasti. Una volta effettuata questa semplice operazione, cliccate sul tasto pubblico e i vostri contatti potranno leggere ciao sulla vostra bancheca di Facebook. Vi ringrazio per aver seguito questo tutorial, ci vediamo alla prossima puntata.